vediamo innanzitutto cosa non è il copywriting persuasivo ecco non è come ti anticipavo copy creativo cioè non è pura scrittura pubblicitaria nel senso di quello che appannaggio delle grandi aziende che fanno solo brand awareness tu già conosci il loro brand mettiamo ad esempio la coca cola e la pubblicità l'unico obiettivo di ricordarti che esiste quel brand per farti venire lo stimolo magari ma non ti chiede nessuna azione ok quindi noi siamo diversi da quel tipo di pubblicità così come siamo diversi nel fare copywriting persuasivo dalla creazione di frasi puramente effetto o di slogan perché non sono quelle che portano le conversioni altrettanto è diverso il copywriting persuasivo dal seo copywriting perché non ci limitiamo semplicemente a scrivere contenuti editoriali che devono attrarre traffico che poi sarà monetizzato con le pubblicità per esempio con i banner o con le affiliazioni copywriting persuasivo prima di tutto serve a vendere servizi e prodotti nel mondo moderno e quindi anche gli articoli sono scritti in termini persuasivi sono diversi dai semplici articoli seo sono più strutturati come vedrai e ci sono altre modalità altri canali che intervengono e non c'è così tanto focus sulla parte tecnica di link building come invece nella seo copywriting penserai che il copy persuasivo è simile o di fatto è uguale al copia risposta diretta ma anche questo è da rivedere come concetto perché il copia risposta diretta storico come vedrai perché parleremo dei principi di marketing diretto non basta più nel mercato odierno non basta più perché c'è bisogno di più touch point e non si può semplicemente mandare un visitatore su una sales letter lunga brutta e molto aggressiva per chiedergli un'azione anche se non ci ha mai visto anche se non conosce il nostro brand per niente quanto piuttosto è utile portare progressivamente con la persona compiere un'azione e a stabilire un rapporto con noi quindi ad avere fiducia verso il nostro brand questo è molto più sofisticato del lavoro del copia risposta diretta anche se i principi base del copia risposta diretta sono stati inglobati nel copywriting persuasivo moderno di che si tratta quindi quando parliamo di copywriting persuasivo si tratta di scrittura che serve ad aumentare le conversioni questo in pratica significa intercettare il target dove si trova quindi in base al suo stadio di consapevolezza con il giusto messaggio in base al suo stadio di consapevolezza riguardo il suo problema riguardo la nostra soluzione o le alternative che ci sono in giro e in base al suo customer giorni portare la persona a compiere il passo successivo quindi se è per esempio un visitatore alle prime volte dobbiamo far vedere dei contenuti e se invece ha già consumato i nostri contenuti li possiamo far vedere delle offerte e così via questo è un principio universale non è una regola fissa ma ciò che contraddistingue il copywriting persuasivo è proprio il continuo nutrire le persone e a guidarle al passo successivo convincerle che c'è del valore e c'è da portare da andare avanti però infatti la disciplina di cui mi occupo tutti i giorni è l'insieme di questi quattro elementi di queste quattro discipline a loro volta cioè le strategie di vendita come ti dicevo sono un grande vantaggio per un copywriter la conoscenza del sales in generale delle tecniche di vendita aiuta e le strategie di vendita sono tante te ne mostrerò alcune in questo corso i risultati di test perché è un lavoro di fatto scientifico questo in cui sistematicamente si può ridurre il numero di variabili e si può andare a vedere che alcune cose funzionano meglio di altre in un dato momento storico su un certo tipo di campione di target terzo ci sono delle idee che noi abbiamo tratto e continuiamo a trarre dagli studi di neuroscienze che hanno dimostrato alcune cose che già intuitivamente sapevamo nel novecento ma al giorno d'oggi ci mostrano molte più opzioni su come dirigere i meccanismi decisionali e arrivare alla persuasione in quarto luogo i principi della user experience e del design orientato alle conversioni quindi quel tipo di microcopy e di design anche dei testi nelle pagine e così via che facilitano il più possibile l'interazione e la conversione